Match avaro di emozioni e pareggio a reti bianche tutto sommato giusto tra Vigenzi e Castellana che con un punto a testa continuano il loro percorso in zona playoff e guadagnano terreno su Borgo Satollo e la sportiva Ome. Nel primo tempo da segnalare due pericolosi colpi di testa da corner, uno per parte a cavallo del 35esimo. In entrambe le occasioni Lopez e Cella non inquadrano lo specchio. Al quarantesimo il bomber uruguaiano della Caste va vicino al gol ma coglie il palo esterno al termine di un contropiede orchestrato da Orlandini. Nella ripresa la Castellana si fa più pericolosa dei padroni di casa ma il brivido finale è di marca Bresciana al novantesimo quando Veronesi segna da pochi passi ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Finisce 0-0 e entrambe le squadre agganciano il quarto posto a quota 20 dietro l'asola.